Andiamo alle notizie più importanti dell'ultima ora, cominciamo da SkyTG24, l'inchiesta Covid che si è appena conclusa. Il procuratore a SkyTG24 ha detto migliaia di vite potevano essere risparmiate. Antonio Chiappani commenta l'inchiesta sulla gestione della pandemia nella Bergamasca, chiusa a carico tra gli altri dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della salute Roberto Speranza, che ora sono iscritti nel registro degli indagati, il IPM. Scrivono che Bruzzaferro impedì l'adozione di misure, aggiungono zona rossa avrebbe evitato 4.000 morti. Invece sull'Ansa gli insulti di Sgarbi a Carfagna, il caso in giunta alla Camera, la giunta delle autorizzazioni della Camera è chiamata a giudicare sull'eventuale insindacabilità del sottosegretario, l'aveva offesa in aula. Su Repubblica invece il Movimento 5 Stelle, l'apertura di Conte a Schlein, ma senza cambiare in banco, l'intesa prova a ridicollare dal salario minimo, il leader del Movimento 5 Stelle parla ai suoi durante il Consiglio Nazionale e dice che un nuovo segretario non è un nuovo partito. Sulla stampa invece l'eruzione di polizia all'assemblea scolastica sulla cannabis a Enna Marconi, che ha detto una sciocca politica repressiva, i luoghi del sapere sono sacri, l'ex presidente della Commissione dei Diritti Umani del Senato, interventi in contrasto con il diritto all'assemblea e alla libertà di espressione, ha detto mi auguro che non si tratti in alcun modo di un indirizzo del governo. Carla, queste erano le notizie per stasera.